Ha avuto nell'aggressività, nell'anticipo e nella velocità dei contropiedi le sue armi migliori. Qui vedete Berggren che spara alto. Ha anche una bellissima parata di Brini e questa è invece una parata di Mannini su tiro di Edigno. Ha anche sprecato molto il Pisa. Questo è il gol, Armenise, vedete, riceve da Baldieri e batte Brini. 1-0, siamo al 26esimo del primo tempo. Potrebbe raddoppiare il Pisa, sempre Kieft in evidenza. Questo è un suo tiro andato fuori. Ancora qui il centroavanti che sbaglia da pochi passi. L'Udinese come risponde? Tacco di Barbadiglio, tiro di D'Agostini che passa alto. Poi nella ripresa, ecco qui Berggren che cerca di farsi luce in area e manda alto. Questo è invece il pareggio dell'Udinese. Perde una palla il Pisa, se ne va a Carnevale, entra in area e la palla passa proprio in mezzo alle gambe di Mannini. Ancora l'Udinese cerca di stringere il Pisa nella propria area ma non va molto lontano. L'Udinese è sempre il Pisa a rendersi minaccioso. Guardate qui Berggren come viene pescato davanti a Brini ma non riesce a concludere. Infine vi mostriamo un grande tiro di Galparoli che Mannini devia in angolo.